Allora, che cos'è Amazon? Perché io non ho capito, io ti ho chiesto cosa vuoi per Natale Allora, io che cosa vorrei per Natale? Allora, se non si sa, tu non devi pensare che arriva o arriverà No, ma io sto cercando di capire che cos'è Amazon, perché lui mi ha detto, poi mi arriva puntuale con Amazon Ma Amazon che cos'è? Un elfo di Babbo Natale? No! Ma che cos'è? Amazon sono delle specie di persona, adesso ti faccio un esempio No, assolutamente Sì, eh? Una specie di persona che ti mandano dei giocatori, dei video, dei personaggi Ma come le contatti queste persone? Io, no, 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 te lo spiego meglio, ti faccio un esempio Eh? Te vuoi un gioco, un telefono Eh? Te vuoi prendere il tuo computer? Ok Scrivi Amazon Ok E ti fa vedere che cos'è Amazon Poi tu scegli quello che vuoi scegliere Amazon ti fanno vedere le cose che vuoi Invece Devi dirlo a te cosa vuoi Ma non sai che un giorno io volevo quattro personaggi di Disney Infinity 1.0 Ah, per quello che sai cos'è Amazon, perché le ho ordinati Un giorno ho ordinato, ti dico che ho ordinato, ho ordinato, mostra che può diventare invisibile, flash E poi? Sì, due personaggi di Disney Infinity 1.0 Ok E abbiamo guardato e io mi sono scelto i personaggi Ma come l'hai scelto? Li hai chiamati al telefono? No, l'abbiamo fatto col computer Eh, ma sul computer cos'è col dito? Hai schiacciato? Sì, l'abbiamo schiacciato con il dito È come una chiamata solo che non usi il telefono Ah, wow Capito? E poi? E come hai pagato? È venuto qualcuno e tu hai pagato? No, perché quando viene il postino Cioè quando viene la persona che ti porta quella roba Te gli dai i soldi Ah, paghi direttamente quando loro te lo portano Non paghi con la carta di credito No Perché non mi... No, perché no Dai Ma non mi... Come faccio? Eh, scusami, sono un po' dura Non capisco tutto Eh, se te però dici che sai le cose Un giorno l'abbiamo provato davvero, eh No, ma io ci credo È che non riesco a capire Come fanno a portarti le cose Se tu non hai pagato in anticipo Se non paghi prima non ti portano le cose No, perché Loro ti portano... Ma no, perché ti spiego Davide, pure a te Senti bene Te E arriva il postino Prima che ti dai il pacco il postino Il postino è davanti a te Sì Per il pacco Prima te gli dai i soldi Poi lui ti dà il pacco Ah, ok Invece è così Eh no, perché il postino non sa dove abiti Come fa a sapere che te abiti in via tali e tali? Tali e tali? È un modo di dire Vabbè, quindi il postino tu gli dice Tu su Amazon scrivi Io vivo in quella strada Io mi mando una lettera al concreto dove sono Dove è la città Dove è la via La casa è rosa Di tutto il resto Gli altri piani Eccetera eccetera Ok Va bene Va bene, grazie Quindi in poche parole Babbo Natale ti porta le cose su Amazon In poche parole Ma no Ma che Ma non capisci Mi hai già sbagliato tutto Babbo Natale Non è Babbo Natale Sono delle persone di Amazon Non è mica Babbo Natale di Amazon Ah Quindi Babbo Natale è sempre Babbo Natale Sì, porta i giocatori a Natale Eh ma no Non è così Babbo Natale non è che porta i soldi a regali Non potrebbe anche portare i regali Ma potrebbe portare anche qualcos'altro Potrebbe tipo portare del carbone ai bambini Che si sono comportati male No Babbo Natale non porta il carbone E la strada Potrebbe portare un po' di felicità Al posto dei regali Oh Facendo cosa? Che bello Se uno deve pensare sempre Che Babbo Natale porti i regali Cioè Non vede l'ora che arriva il 25 Di dicembre Che siamo ancora prima di gennaio Ancora prima di gennaio e dicembre Fidati È molto meglio pensare a niente Che dire Babbo Natale mi porta questo Questo e questo Perché poi non ci arriva niente Però Ma davvero Portasse la felicità sarebbe bello Ma Davide davvero? Ma a te un giorno ti è successo? Sì è successo Quante volte? Eh troppe Tutte le volte Allora io non penso Perché tutte le volte Vi dicevo prima Io sicuramente a Natale Mi arriva questo Questo e questo Sai cosa mi è arrivato? Che cosa? Una cosa Che cosa? Grazie a tutti.